Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video Oggi sono qui perché andrò a mostrarvi la mia collezione di labelli come potete vedere, che è veramente gigantesta perché sono 31 Allora, sono tutti della marca Labello Tranne qualcuno qui, questa parte qui non sono labelli Ma iniziamo... Allora, il contenitore è di quelli per il make-up ma io lo utilizzo per i labelli Direi di iniziare da questa parte Qui ho voluto mettere quelli che preferisco Allora, iniziamo da qua Qua c'è questo labello all'aloe vera scrub E si può vedere che la confezione... Vedete, ci sono questi pallini Ed è granuloso, ecco E appunto è l'aloe vera È molto, molto buono Non mi ricordo i prezzi Poi ho questo che è all'anguria Per trovarlo ci ho messo veramente un secolo, vi giuro E comunque è questo Scusate le unghie, devo rifarmi lo smalto E se volete potrei fare un video insieme a voi In cui mi rifaccio le unghie Fatemelo sapere Allora, appunto è questo All'anguria Poi ho questo che è insieme a questo che vediamo dopo I miei preferiti, sono i miei due preferiti E sono questo che è alla pesca Che è buonissimo E anche per questo, per trovare questi due Ci ho messo un secolo Poi ho anche questo che ha la ciliegia E è molto, molto scuro E anche molto, molto bello Sono, mi sa È un po' rovinato qua intorno Ma dettagli Poi ho sempre un altro Che è uguale a questo Soltanto che ha le rose Almeno da quanto c'è scritto E vedete, ha sempre la confezione Con questi pallini E poi è sempre Questo è anche più granuloso È buonissimo Sempre scrub Niente da fare Non vuole mettere a fuoco Allora, passiamo a questo Che è insieme a questo Come ho detto prima Il mio preferito Questo è alla vaniglia E è veramente buonissimo Infatti si può vedere Che questo l'ho utilizzato Molto di più degli altri E lo uso praticamente tutti i giorni Poi ho questo che Di questi ne ho tipo Tre Però confezioni diverse Allora, c'ho questo Con l'hashtag Girlboss Ed è alle rose E questa è la confezione Un po' diversa Però è sempre Labello Non si legge Perché non vuole Mettermelo a fuoco Poi ho questo qui Che pensate Che è bianco Ma in realtà L'ha fatto Hanno fatto Diciamo Una specie di collaborazione Labello e Nivea E hanno creato questo Allora, in pratica C'è il labello intorno E questo è il colore Nude Come si può leggere Che non tanto Non me lo meriterà Mai a fuoco O quasi Vabbè, insomma Nude E poi ha un pallino E questo pallino bianco È la crema Insomma Passiamo al prossimo E il prossimo È questo Questo è sempre Come questo Ma è quello Red Mi manca quello Rosa Quello pink Penso che si chiami E appunto Ha il pallino di crema E niente Però è Rosso E c'è anche Fatto così Però appunto Rosa Mancano questi tre Allora Iniziamo Subitissimo Questi tre Sono Questo qui È un labello Med Repair E questo serve Per quando Sono veramente Tanto tanto Screpolate le labbra E dovrebbe funzionare Così Ma io non ho mai Avuto in questi giorni O comunque In questo tempo Labbra screpolate No Una volta ce l'ho avuta E ha funzionato Infatti dopo poco Mi è passato Poi ho questo Che è anche Bellissimo Perché questo qua È una protezione Solare Quindi questo serve Per quando è andata Al mare E infatti È da mettere Sulle labbra Non so quanto Si possano scottare Le labbra Ma Per non farle Screpolare Così E questo serve È una protezione Solare Per le labbra Andiamo avanti Poi ho Per la collezione Ho voluto comprare Anche il labello Man Ovvero il labello Da uomo Comunque da ragazzo Da maschio Insomma Ed è per la collezione Comunque è un labello Classico Andiamo avanti Proseguiamo Purtroppo Non so come mettere Il telefono Per mostrarvelo Ora troverò Una soluzione Comunque Passiamo A questa parte Qua dietro Qua ci sono quelli Che utilizzo Di meno Insomma Per mostrarvelo Ho dovuto Fare questa cosa Ovvero Girarlo Ma soltanto Per adesso Allora Iniziamo da Questo Che Come non averlo È il labello Classico Ecco qua E niente Non so cosa dire Anche perché È classico Passiamo a questo Questo qua Parlavo Appunto Di Questo Questo qua Questo è anche Alle rose E soltanto Che è più Perlato Quindi è Anche alle rose E fa parte Di quei tre Che intendo Prima Poi ho questo Che è uno di quelli Che ho utilizzato Di più È stato anche Uno dei miei primi Ed è Alla Fragola Sia Frutti Bosco Non lo so Poi Sempre uguale Però Con un'altra Confezione Questo Che è un po' Più vecchio In realtà Infatti È molto Rovinato Io non Non lo utilizzo Ma lo tengo Solo per collezione In realtà E poi Ho qui Quello Classicissimo Alle rose E quindi Appunto Sono tre E poi Ho questi due Questo e questo Sono quelli che ho utilizzato Di più Questo in assoluto Ed è al blackberry E infatti Vedete come È tipo rovinata Anche la scritta È veramente Usato Un botto E niente Questo me ne mettevo Tipo un chilo Ops Me ne mettevo Tipo un chilo Perché era l'unico Che riuscivo a far vedere Ma dettagli Poi È venuta via Questa Comunque Ho questo Che se non mi ricordo male Ora non c'è scritto qua Ma era tipo All'aloe vera E un'altra cosa Che non mi ricordo Comunque questo L'ho trovata anche Nei supermercati Ovunque Poi Ma perché vengono via Mannaggia Ce l'ho fatta E l'ho anche messo a fuoco Allora Questo si chiama Love me Ed è sempre Mar Calabello E in pratica È quello classico Soltanto che È un'altra confezione E quindi Da questo lato L'abbiamo Terminato Continuiamo Con Questi Che sono Veramente Stupendi So che Ne è uscito Uno nuovo Ed è quello Se non mi sbaglio La pesca E L'avevo trovato Soltanto a mezzo corona Però Avevo già Avevo Ero stata da Tiger E avevo già speso Un sacco di soldi E quindi Non volevo anche Comprarmi un altro Lovello Altrimenti spendevo troppo Però Lì Anche mia nonna Mi ha aiutato A cercarlo ovunque Non si trova Cioè Non so perché E ora vi mostrerò Questi qua Allora Come primo Che voglio andare a mostrarvi Il mio preferito Spostato un attimo La fotocamera E Guardate Com'è bello C'è È il mio preferito In assoluto E è quello All'anguria Se non mi sbaglio Dovrebbe essere Il colore è un po' Differente Perché questo È più scuro Ma dovrebbe essere Questo il gusto Anche se non c'è scritto E E anche questo E anche questo Si si vede Ma niente Passiamo a uno Che invece Si vede Troppo Ovvero questo Questo qua Si vede Tantissimo Ed è il più scuro Che c'è Cioè tantissimo Ovviamente Non dico Un sacco Però Abbastanza E questi Dovrebbero essere I Cry Cry Una specie Un labello Cry Una roba Del genere Poi c'è questo qua Che è nude Ed è Uno dei più belli È stupendo Quindi Sono tutti stupendi Per me Insomma Andiamo avanti E qua troviamo Altre cose L'abello E poi Qua c'è un reparto Che non è l'abello E poi Si vedono Tipo delle unghie finte Fatte di carta Dei Piercing Finti Un po' Di carta Ma Dovrei Darci una pulitina Iniziamo Stavo sbagliando A parlare Ma questo è aperto No Mi sa che era aperto Diamo un'occhiata Questo Questo credo Di averlo Utilizzato Tantissimo E non sto scherzando Si è Sta tantissimo Di fragola Vi giuro Sembra Sembra un gelato E Mi sa che sia Un po' sciolto Ma Devo Sare attenta Quando Ecco Ora è chiuso bene Ed è Il labello Quello Com'è che si chiama Oddio Labello mini Tipo Oddio Non ho niente Vabbè insomma Questo labellino Ecco si si chiama Labellino Insomma E poi Ce n'ho un altro Che questo è La vita Cioè Questo Vabbè L'ho tenuto perfetto Perché È perfetto In confronto A questo Ecco Come rovinarlo E Niente Mi sono messa anche questo E Tipo Alla menta Però Non forte E quindi A chi non piace La menta Comunque Un po' sa Però È tipo Un misto Fra Alla O E Vera E Menta Una roba del genere È buonissimo Raga Ve li consiglio tantissimo Questi due E non ce ne sono altri Fatti così Quindi Top Andiamo avanti Arriviamo Qui E troviamo Questo Che è un Lips Balm And Blush Questo si vede Abbastanza E Lo trovate In tutti I supermercati Praticamente Nel reparto Trucchi Se c'è L'ho No L'ho distrutto Raga Guardate Mannaggia Te Eh L'ho distrutto Ora Perché vedete Io odio Quando Succede Questa cosa Però una volta Che vi lo mettete C'è Cambia Le mie labbra Non sentono più Un gusto Comunque È solo questo Appunto È fatto così Comunque Perché Ecco E questo Mi sembra Che costi 3 euro E comunque Il labello Lì Crayon Crayon Lì Non so Come si chiamano Sicuramente Non Crayon Ovvero These Costano tutti Sui 5 euro Quindi Top Andiamo avanti Con il Pandino Raga Questo L'ho preso Aldm Che È un Supermercato Che È Un Un Negozio Perché è Supermercato Che si trova Sial 20 Che è un Negozio Di Che è un Centro Commerciale Oppure Alivez C'è un DM E poi Non so Dove anche Si trovi Perché io So solo Questi due Comunque Non è solo In questi posti E Raga È bellissimo E Questo Era Tipo Pieno Penso Questo È quello Che ho Utilizzato Più Di Tutti E Questo Ce l'ho Da Un Secolo Ancora Prima Che Iniziavo Tutta Questa Collezione Andiamo Avanti E Ci sono Questi Tre C'è Questo Che È Uno Sticlabra Eucerin Fa Abbastanza Schifo Come Si Chiam Però È Un Semplice Sticlabra Per E Questo Lo portavo Sempre A scuola Perché Non mi andava Di portare Magari Dei labelli Che si potevano Rovinare Quindi Li ho sempre Tenuti a casa Poi Ho Questo Che È Una Specie Di Rossetto Che si Vede Poco Ma In pratica Questo Qua Non si Vede Sulle Labbra Ma Te le Fa Il problema Il problema È che Ovviamente Non me lo metto a fuoco Perché Ecco qui E a questo Passiamo Ora Arriva L'ultimo Che è questo In realtà Ne ho molti altri Però Non so dove Sono finiti Ho questo qui Che è Alla Loe vera Come si può vedere Ed è della marca Leo crema Anche questo L'avevo preso Al dm Anche se Non c'è scritto Ma me lo ricordo E Niente Ne ho tantissimi Praticamente Alla Loe vera E questo È È sciolto Una pappetta No scherzo Non è sciolto Però non so Per quale motivo Non rientra Non entra Raga Io più Lo faccio entrare E più esce Giuro Boh Non so Che problemi ha E niente Raga Io ne avevo Tanti anche Al cioccolato Bianco Al cioccolato Ma non so dove sono finiti In realtà Il video termina qui Questa era Tutta la mia collezione Di labelli Spero che vi sia piaciuto Bye bye